Il Consiglio Comunale di Sanremo durante il dibattito sul rendiconto di gestione ha proposto un'accesa discussione relativa ai costi della politica. A dare il via è stato il Movimento 5 Stelle che ha accusato l'amministrazione di aver aumentato notevolmente le tasse a tutti i cittadini. Un vero bagno di sangue, ha detto la capogruppo Paola Arrigoni. Vengono chiesti sacrifici a tutti, si vogliono vendere i beni comuni per fare cassa, ma tranne noi nessuno ha rinunciato ai gettoni di presenza. Proprio i costi della politica sono stati al centro dell'intervento della rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha fatto i conti in tasca all'amministrazione. Nel 2014 sono stati versati dal Comune di Sanremo, come indennità, funzione degli amministratori e gettoni di presenza al Consiglio e alle commissioni, più di 320 mila euro, una cifra che, se moltiplicata per i cinque anni, ammonterebbe ad 1 milione e 600 mila euro. Paola Arrigoni ha poi specificato le voci di questa spesa. In particolare quelle relative ai gettoni presenza dei consiglieri comunali, dichiarando che queste cifre potrebbero essere utilizzate per il sociale, come per esempio borse lavoro per le persone con disabilità o con disagi psichici. A me non piace mettere in piazza se uno fa della beneficenza, ha replicato Giuseppe Faraldi di Sanremo al Centro. Una persona lo fa per i fatti suoi e non lo va a sbandierare. Se io do qualcosa in beneficenza, perché devo andarlo a dire in giro? Grazie. Grazie.